Siamo arrivati alla sesta e ultima tappa del Biogas Fatto Bene Tour, siamo a Trescore Cremasco, azienda agricola Eredicarioni, un'azienda con oltre 1000 ettari di superficie certificati biologici, quasi 1000 vacche in lattazione, azienda che utilizza al meglio i reflui aziendali, in particolare il digestato, per portare avanti il nostro concetto del Biogas Fatto Bene. L'azienda Eredicarioni utilizza al meglio il digestato prodotto nei due impianti Biogas, vengono utilizzati i mezzi per la distribuzione, l'interamento del digestato, l'azienda adotta le doppie culture e adotta le tecniche di agricoltura di precisione. L'azienda Carioni è un esempio di economia circolare Lombardo che facendo reddito agricolo possiamo determinare anche un ambiente totalmente moderno, innovativo, sia per gli animali che per i nostri terreni. Per aver avuto la possibilità di fare il biogas, di avere il digestato, di essere andati in un ambiente sostenibile, ci ha permesso di ampliare le nostre visioni della sostenibilità del terreno. Oggi lavoriamo circa 200 quintali di latte al giorno biologico, noi serviamo negozi, serviamo supermercati, la nostra tracciabilità ci permette di essere sicuramente protagonisti anche in un mercato estero e abbiamo grandi possibilità di crescita nel nostro ambiente agroalimentare. Grazie! 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 Grazie a tutti.